Ci troviamo davanti allo storico, veramente mercato di via Sagno, io mi ricordo quante volte ci sono andato con mio padre a comprare tutta roba usata perché c'è il fascino qui, però questa mattina invece di sentire la gente, quello che mi fa un po' pensare, che la gente che abbiamo intervistato comunque non erano proprio arrabbiati e arrabbiati come uno può pensare, ma più che altro mi sembra di sentire una rassegnazione nella gente, come a dire non credo più a nulla, anche se comunque la fiducia molti l'hanno, perché comunque siamo un popolo che penso che speranzosi, navigatori, poeti, artisti e io penso che l'italiano comunque è un popolo sempre allegro come dice Alberto Sordi e va e va, e noi con se va e va, come a dire tiriamo avanti, tiriamo la cinghia, la tireremo e però non vogliamo certo perdere la speranza di vivere, lavorare, nascere in questo paese meraviglioso che è l'Italia e Roma poi, capitale del mondo, capitale del mondo, però io vorrei leggervi l'articolo 4 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e l'articolo 1 invece che dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ma forse anche se c'è un'emergenza, ma una riveduta a tutti questi articoli e fare in modo che questi articoli veramente uno possa dire, oh incredibile, ci ha preso in pieno.